Generalizzando, potremmo dire che ci sono due grandi categorie attraverso cui le culture umane classificano l'agire, comunque la capacità di scelta, ovvero il libero arbitrio e il determinismo. Cosa ne pensi? Credo che da un certo punto di vista nel nostro vissuto quotidiano noi siamo un po' dibattuti tra questi due aspetti, nel senso che se dobbiamo vedere la nostra esperienza, a volte abbiamo la sensazione di essere una specie di ingranaggio in un meccanismo che non ci permette di essere liberi, questo molti lo possono vivere per esempio con il fatto che a volte sentono con grande sofferenza di non avere possibilità di muoversi nella vita perché la società li ha messi in una condizione veramente sotto scacco, che non hanno nessuna via d'uscita da situazioni terribili e questo ti fa sentire che non hai nessuna possibilità di libera scelta, perché le scelte vengono obbligate da questo macchinario, questo moloch della società che ti schiaccia. Altre volte alcuni lo sentono interiormente, ogni volta che succede quello, non so, mi arrabbio e io non voglio arrabbiarmi, ma non ci posso fare niente. Oppure provo un forte risentimento verso qualcuno e non lo vorrei questo risentimento, ma non posso fare a meno di tenermelo, quindi si vive un determinismo anche interno. D'altra parte siamo continuamente durante la giornata messi di fronte ad apparenti scelte, apparenti scelte, poi dico perché, dico apparenti, in cui devo scegliere se andare al cinema o stare a casa, se farmi la pasta alla carbonara oppure il risotto alla milanese e ogni volta mi sembra di scegliere liberamente questo o quello. Ora, naturalmente non ci vengono notizie riguardo alla libera scelta molto buone da parte delle neuroscienze. Le neuroscienze ci dicono che, per esempio, se io mi dicono scegli fra la mela rossa e la mela verde e scelgo la mela rossa, credo di aver scelto liberamente, ma magari c'è tutta una storia, anche inconscia del mio passato, che ne so, mia mamma mi faceva mangiare per forza gli spinaci che sono verdi, per cui fra due mele preferisco quella rossa perché quell'altra mi ricorda gli spinaci. Io non manco lo so questo, manco me lo ricordo, quindi che libertà ho avuto. Cioè è stato un neuroscienziato che ha paragonato i vari modi di funzionare delle sinapsi del cervello per la decisione a questo, cioè tipo il presidente della nazione è quello che deve fare la decisione ed è la parte cosciente del mio io. E poi immaginate uno stadio enorme pieno di commissioni, che sono gruppi di neuroni collegati, eccetera, che ognuna delle quali deve esaminare un aspetto, per esempio analisi della situazione attuale, analisi delle situazioni precedenti che hanno avuto una somiglianza, previsione dei vari scenari virtuali che possono accadere in base a queste decisioni e così via. E poi ci sono degli altri gruppi, degli altri commissioni che si occupano di mettere, di collegare i risultati di quelle commissioni in un insieme e così via, fino a che non si arriva all'ultima commissione che tira le fila di tutte quante, vada al presidente e dice fai così, e il presidente fa così. Allora tutto questo lavorio di commissioni è la parte inconscia in cui il nostro sistema psicofisico arriva poi a prendere la decisione cosciente. E quindi in che modo è libera quella decisione, se tutto il processo attraverso cui ci arrivo è inconscio. E quindi potremmo dire che noi non possiamo prendere decisioni coscienti, ma possiamo soltanto essere coscienti delle decisioni. questo dal punto di vista delle neuroscienze, come anche di quei famosi esperimenti di Libet che sono stati discussi, eccetera, ma che restano comunque in qualche modo dicono una cosa interessante. In quegli esperimenti si chiedeva a dei soggetti volontari di premere un certo pulsante in un momento qualsiasi nella successiva ora, liberamente, cioè con totale libertà, a un certo punto, loro nell'ora successiva avrebbero dovuto premere quel bottone. E monitorando tutti i vari centri cerebrali, eccetera, è venuto fuori che la decisione, le aree che presiedono alla decisione, adesso premo il bottone, si sono attivate un terzo di secondo dopo di quelle che davano al braccio l'ordine di premere il bottone. Cioè prima il corpo dice al braccio vai a premere il bottone e subito dopo dicono alla mente decido di premere il bottone. Allora questo, ripeto, è il punto di vista di gran parte delle neuroscienze, ma non tutti sono d'accordo naturalmente su questo. Ecco, personalmente credo che la questione sia una questione malposta, nel senso che ci troviamo di fronte a una domanda, o un libero arbitrio, oppure sono schiavo del determinismo, no? Tutto questo presuppone che ci sia un io separato. che possa essere libero o schiavo del determinismo a monte. Mi spiego, cioè l'idea di essere determinato dai condizionamenti o l'idea di essere libero o di avere una libertà di scelta presuppone che ci sia un io a parte da tutto questo che ha questo dilemma. Ecco, siccome però secondo me non esiste un io separato, è un miraggio, mi sembra di essere un io separato, ma in realtà non lo sono ed è una costruzione linguistica e concettuale. Anche qui nelle neuroscienze non è che ti dicono abbiamo trovato questa zona del cervello, questo è l'io. L'io è una costruzione utile, perché semplifica e ci permette di prendere decisioni veloci. È una costruzione, l'idea di essere un io separato. Vedete, il linguaggio stesso crea una metafisica, perché soprattutto il nostro linguaggio, diciamo, la maggior parte delle lingue che si articolano attraverso sostantivi, aggettivi, avverbi e verbi. Quindi c'è un sostantino che indica una sostanza e un verbo che indica un'azione. E noi pensiamo che la sostanza, cioè il sostantivo, compie l'azione e se vuole non la fa, perché lui comunque rimane. Ecco, io sono una sostanza, sono un sostantivo e io compio l'azione di farmi un panino e di mangiarlo, ma anche se non lo faccio io ci sono. Ecco, allora lo vediamo da alcuni esempi linguistici che è una costruzione del nostro pensiero, perché quando diciamo il vento soffia, noi indichiamo due cose, un'entità, il vento, e un'azione, di soffiare. Ma se non soffia il vento che fine fa? Non è un'entità che compie l'azione di soffiare. Non c'è nessun vento che compie l'azione di soffiare, c'è solo il soffiare. Poi noi, siccome la nostra lingua ha bisogno di un soggetto e di un verbo, lo dividiamo in due, ma indicano la stessa cosa. Una luce brilla. Non è che c'è la luce senza il brillare. E la stessa cosa è quando io dico, io scelgo una cosa, io mangio un panino, cioè non esiste nessun io a parte dall'azione di mangiare o di scegliere. Non c'è bisogno di pensare che ci sia un io a parte, che fa queste cose. In quel caso l'io è il mangiare, è la decisione, eccetera. Allora, se non esiste un io separato da tutto ciò che accade, la questione, e cioè se l'io separato in realtà non è altro che il tutto che si manifesta in tutte le cose, compreso quel corpo e quella mente, senza separazione il tutto è libero di fare quello che vuole perché non ha niente al di là del tutto che lo condizioni a fare qualcosa. E nello stesso tempo quindi chiedersi se io, credendo di essere un'entità solida e separata, sono libero, ho un libero arbitrio, sono condizionato, io dico spesso è come chiedersi se Babbo Natale è alto o basso. In primo luogo è un personaggio immaginario e quindi non può essere né alto né basso. Ma allora perché l'illusione di un io separato continua a persistere? Io penso che sarebbe come chiedersi perché c'è il miraggio dell'acqua quando l'acqua non c'è, cioè è un fenomeno naturale. Un fenomeno naturale? Oddio, un biologo potrebbe pure dire l'idea di essere un io separato, identificato con questo corpo, aiuta la sopravvivenza, nel senso che sto molto attento a quello, se io penso di essere soltanto questo corpo, sto molto attento che non gli succeda niente di male e quindi, o per esempio noi pensiamo a volte di finire con la nostra pelle, quindi siamo molto attenti a che questa pelle non venga in qualche modo danneggiata da quello che è fuori di me. Quindi tutto questo potrebbe anche avere dal punto di vista psicologico una funzione di aiutare la sopravvivenza dell'organismo, credo che ce l'abbia questo, ma è una spiegazione. Un'altra è che esistono infiniti fenomeni naturali come l'arcobaleno, come i miraggi, perché esistono, non servono a niente, però ci sono, sono pure belli. Quindi perché no? La risposta è perché no.